Cividale, Trerè cosa propone? Trerè propone una cucina italiana, menù molto ridotto, cucina espressa, siamo chiusi il mercoledì, facciamo poche cose però fatte tutte quante al momento, cucina espressa, come dicevo prima, facciamo un po' di carne e un po' di pesce. Prodotti tipici locali? Abbiamo prodotti chilometri zero, cerchiamo di utilizzare anche prodotti chilometri zero anche se abbiamo un occhio per alcuni prodotti di nicchia anche esteri oltre che del resto dell'Italia, tipo stasera abbiamo una battuta di passona piemontese con i pomodorini in confì su una crema di taleggio e olio alla cenere. Invece di qua abbiamo del polpo alla cacciatora con una crema di patate e dei germogli di alfalfa. di alfalfa.